Ciao, questo è un nuovo video che il solito che faccio sui film e che riescono ad andarmi a recuperare nel guardare che mi sono visto Boyz Kill Award, che visto che adesso lo hanno messo sulle solite piattaforme, sono riuscito a recuperarlo nel guardare che il solito film d'azione come paese di produzione della Germania, del Sudafrica, che come film è del 2023, che ho visto che magari come film, essendo magari la sua data di rilascio è stata nel 2023, però ho visto che come si dice che la data di rilascio è stata nel settembre del 2023, dopo essendo un film della Germania, del Sudafrica, qua in Italia come i film americani arrivano sempre qualche mesi dopo che in America negli Stati Uniti è uscito proprio ad aprile del 2024, che sicuramente qua in Italia sarà arrivato sempre all'inizio del 2024 come film che adesso lo hanno, come ho detto magari prima, lo sono riuscito a recuperare solamente adesso nel guardarlo, grazie perché lo hanno messo sulle solite piattaforme, che se qualcuno ha qualche abbonamento, come si dice, lo può recuperare anche gratis come film, a chi piace questi film d'azione sicuramente è un film da andarsi a recuperare, che ho visto che quando è uscito è andato anche bene come film che aveva tipo incassato anche, molta gente è andato a vederselo, che anche dalle recensioni che ho visto come si dice, quelle che ho trovato io erano tutte positive e che mi avevano dato Marei un po' più di fiducia Marei per andarmelo a guardare questo film qua, che dura 1 ora e 55 quasi di film che come regia si prende il film e di questo Moritz Moore che più che altro magari la trama proprio di questo film è Boy che proprio che una persona sorda con una vivace immaginazione che che deve fare i conti con l'assassinio della sua famiglia che viene addestrato da un misterioso sciamano a reprimere la sua immaginazione infantile e ad imitare uno strumento proprio di morte che come si dice che più che altro Marei e oltre Marei quello che Marei nel film come si dice che lui Marei quando la sua famiglia viene assassinata poi fugge in questa giungla e viene Marei e viene addestrato da questo misterioso sciamano per diventare proprio come si dice proprio questo uno strumento Marei di morte più che altro Marei per combattere che come al solito Marei vi lascio sempre sotto in descrizione sia il cast degli attori che hanno partecipato assieme al al videotrailer e se riesco magari a trovare qualche altra informazione in più o la trovate tutto sotto in descrizione che Marei a chi piace questi film d'azione sicuramente Marei è uno di quei film da andarsi a recuperare che oltre Marei essere Marei d'azione può prendere Marei un po' può prendere anche il genere un po' thriller e crime come film però a chi piace Marei questo tipo di film sicuramente come si dice tra come è fatto Marei come è fatto Marei il film come sono girate Marei le scene e magari la trama magari nel compresso come film ci poteva Marei anche stare che Marei non è essendo Marei d'azione non è Marei i soliti film Marei come si dice che Marei ne è compresso ma è può essendo Marei fatto bene Marei ci può a chi piace Marei come stavo dicendo prima a chi piace questi film d'azione Marei se lo va Marei anche a guardare che ho provato Marei da parte mia ho provato Marei a vedere magari film anche peggiore di questi che nel complesso ci potevamo Marei anche anche stare come film anche se a me sono più sono più su su altri generi pro lo sono riuscito lo stesso come si dice sono riuscito lo stesso a guardarmelo e niente che nel complesso come si dice non è così ma magari brutto che a chi piacciono questi film questi film d'azione magari è uno di quei film da consigliare che essendo riuscito sulle solite piattaforme lo sono me l'ho voluto andarmelo a ricoprare e dedicarli magari dedicarli proprio un video e portarlo Marei sul mio canale e niente quello che potremmo Marei dire su questo film magari l'ho già detta al massimo ci vediamo sicuramente magari più avanti con i miei soliti video che porto sul mio canale e niente per adesso vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao ciao